Il pensiero deve essere lì dove sta il presente deve calarsi nella congiuntura, ma questo, d'altra parte, rischia di diventare anche un limite alla sua usufruibilità. Nel senso che, diciamo, se non si lascia uno spazio di trascendenza, quel pensiero risu... Questa è la parola, purtroppo non si può usare questa parola, questa è la parola che andrebbe usata. Ecco, quel pensiero è risucchiato. Ora, io penso che in effetti questa osservazione colga un punto fondamentale, cioè il fatto che, io lo vedo studiando un po' questi autori, come sono stati recepiti, insomma, dopo il 68, la cultura marxista e gramsciana ha un'egemonia, per esempio, in Italia, formidabile, però si chiude tutto nel giro di un decennio e non rimane quasi nulla, diciamo così. Ora, però, questo secondo me, io non so se sia da attribuire al fatto che, come dire, venga meno la trascendenza. Mi domando se non sia stato più che altro il fatto che, tutto sommato, in omaggio a un ciclo di lotte, di mobilitazione... Non viene, scusate, non è che viene meno la trascendenza, viene meno l'energia. Viene meno l'energia, sì, viene meno l'energia politica. Però, però, mi domando se, guardando un po' più, diciamo, in chiave, se si vuole, anche poveramente storiografica i fatti, insomma, il dato è che marxismi autentici, Pasquale, ce n'erano pochi. Erano tutti quelli che Marx chiamava, quelli che Gramsci chiamava i marxismi combinati. Cioè, prendiamo Marx e ci mettiamo un po' di Heidegger, ci mettiamo un po' di scientismo, ognuno... E poi ognuno se n'è ritornato, finita quella sbanda, se n'è ritornato a casa sua. Ora, io quello che ti chiedo è, il cimento delle categorie Marx-Gramsciane, come dire, si è esaurito in qualche maniera, perché, diciamo, necessariamente perché ci doveva essere un'eccedenza trascendente che doveva fare da carburante politico, oppure perché non le si è misurate mai, fino in fondo, anche nell'analisi della stessa immanenza, cioè della dialettica e dei conflitti reali che si muovono nella società e che di volta in volta però non possono essere ricondotti a schemi rigiditi, come di fatto è accaduto, magari con l'aiuto anche di una certa filologia, per tutta una parabola, diciamo, post-anni settanta del Gramsciismo. Io mi domando se, diciamo così, la strada sia il recupero della trascendenza o non sia anche, diciamo così, una intensificazione, diciamo, dell'analisi della dialettica storica, delle mediazioni storiche, che secondo me sono venute meno. Mi rendo conto che probabilmente questo richiederebbe un lavoro collettivo di ricerca, diciamo così, che probabilmente potrebbe anche intrecciare i punti di vista, però secondo me è un nodo che ci serve per l'oggi. Questa questione antica e problematica del rapporto tra teoria e prassi nel marxismo e perché Marx, secondo me, non è riconducibile in qualche modo a Weber. La scienza nel marxismo la si capisce, io credo, facendo riferimento alla rivoluzione scientifica dell'idealismo tedesco e del fatto che l'idealismo tedesco introduce un concetto di scienza nella storia che è profondamente diverso da quello illuministico di impianto scientifico-materialistico. Quindi c'è, diciamo, una teoria di scienza storica che nasce con Hegel e che io credo sia molto fondata sul fatto che Hegel dice che la storia si struttura secondo astrazioni e che l'astrazione deve essere sottratta a un campo solo epistemologico come era accaduto fino allora. L'astrazione non è solo un luogo della scienza e della mente, del concetto, ma l'astrazione è un'esistenza reale che prende corpi e menti ed è questo, secondo me, che fa Marx fondamentalmente quando lega la teoria del valore lavoro con il concetto di lavoro astratto al fatto che questa ipotesi non è un concetto, non è un'ipotesi della sua mente ma è un'ipotesi verificata da milioni di corpi che vivono questa astrazione. e quindi l'astrazione della teoria della scienza è verificata e realizzata dai corpi astratti e quindi legittimata come ipotesi scientifica. Allora, da questo punto di vista, per venire alle belle cose che diceva Pasquale, ma come ha fatto l'operaismo a non partire dal fatto che la condizione del proletariato e del popolo era una condizione di povertà, di povertà assoluta nella sua separazione dai mezzi di produzione, nel suo essere appunto proletariato, un proletariato che verosimilmente ha bisogno di tutto e che in primo luogo ha bisogno appunto di essere in qualche modo riaccompagnato in un processo di ricostruzione culturale, come appunto dice Gramsci. Allora, io credo che forse appunto bisogna ragionare sul fatto che l'astrazione di cui parla Marx è un'astrazione reale, l'astrazione della teoria del valore lavoro, della scienza, dell'economia politica marxiana non è un'ipotesi di Marx, come dirà Colletti e molti altri, ma è appunto la realtà dei corpi ed elementi che testimonia questo astratto e allora se questo viene preso sul serio forse si riapre il discorso gramsciano sul fatto che c'è appunto una soggettività storica che partendo da una posizione di miseria assoluta in primo luogo culturale è ovviamente esposta a tutta la colonizzazione dominante e quindi il discorso è un discorso su come prendere sul serio questa miseria assoluta per porre appunto questo discorso di egemonia. Una breve considerazione pensando anche ai ragazzi presenti in sala, agli studenti. Credo che sicuramente avete colto in queste relazioni, nelle tre relazioni di oggi alcuni temi. Avete visto immediatamente ragionando su Marx, anche chi oggi o vicinasse Marx per la prima volta, poi il nome magari è già noto lo stesso, ma non l'avete mai studiato, ha capito com'è ampio lo spettro di problemi, il campo problematico che Marx ha toccato. Avete sentito la relazione iniziale del professor Palano e avete visto che a partire da Marx il movimento dell'operaismo marxista si interroga sull'organizzazione del lavoro, il lavoro e le macchine, il lavoro e la tecnologia, economia, tecnica e politica sempre si intrecciano. Queste sono molto concrete che potete persino sentire lontane. Voi normalmente gli studenti del liceo classico in particolar modo, del liceo, non vedono mai la concretezza del lavoro. Vivete nei libri, vivete nei libri come giusto che sia. Però sentite come Marx spinge, immerge nel mondo del lavoro, della produzione, della tecnica. E viceversa, ascoltando la relazione del professor Bruni, seguendo la traccia di Levit, avete visto su Marx, parlando di Marx arriva a parlare persino un linguaggio religioso, uno sfondo religioso, un paradiso che scende in terra, il comunismo come una sorta di paradiso riconquistato che scende in terra e non dell'aldilà. Quindi tematiche lontanissime, religioso, metafisiche quasi. E avete ascoltato l'ultima relazione del professor Serra, parlando di Kramschi, ha cercato di portarvi dentro la concretezza della politica e anche del vuoto politico che oggi si percepisce. Proiettandola sul presente ci sono state stagioni, il secolo che abbiamo alle spalle, che voi conoscerete solo nei libri di storia e che noi abbiamo fatto in tempo a vivere nella sua parte conclusiva. È stato un secolo il novecento carico di politica, di passioni politiche, di lotte politiche. E voi oggi che vi affacciate al mondo, siete studenti che vi affacciate al mondo, trovate una povertà politica, un vuoto politico, però appunto un vuoto che è un vuoto doloroso, non è un vuoto e stiamo allegri. Però vedete come usando Marx e Kramschi ci si misura con la politica, sul senso della politica. Avete visto? Il lavoro, la tecnica, la produzione. Una vita futura, una presenza della vita futura, l'immediato della lotta politica ma che nello stesso tempo guarda più lontano. Ecco, Marx apre, per questo abbiamo scelto nel titolo 10-100-1000 Marx, insomma, proprio anche per allargare questo, per allargare il campo, il campo dei problemi del mondo contemporaneo. Io aggiungo soltanto una cosa, proprio perché raccolgo le suggestioni delle relazioni così ricche, così interessanti. Insomma, aggiungo un elemento in più, se partiamo dalle considerazioni conclusive che faceva il professor Serra, bisogna trovare il modo attraverso il quale le idee, le idee filosofiche, le idee politiche, e non so quanto differenza ci sia tra le une e le altre. Anche il più, anche lo studente di filosofia che studia meno sa che quando si legge La Repubblica di Platone si comincia con la filosofia, il mito della caverna sta dentro La Repubblica di Platone, sta dentro un'opera politica. Quella che è la teoria della conoscenza di Platone sta dentro, non sta in un'opera teorica astratta ma sta in un'opera che si intitola Politeia, La Repubblica, così la traduciamo. Quindi, pensiero, filosofia e politica fin dall'origine sono strettamente intrecciate. Avete visto il tema che ricorre costantemente. Però se il problema è come si lega pensiero e politica, pensiero e vita, pensiero e vita concreta, dovremmo forse ripartire, questa è la domanda che pongo ai tre relatori di stamattina, quali sono le forze elementari? C'è da fare quel passo indietro che diceva Serra, perché il pensiero troppo astratto non rimanga astratto ma entra nella vita, incontri la vita. quali sono le molle elementari che possono di nuovo legare pensiero, politica, prospettiva e vita quotidiana? E oggi si avverte questo vuoto. Che qui si potrebbe seguire l'insegnamento di un grande filosofo, penso a Spinoza, Marx era un grande lettore di Spinoza ed era uno spinoziano sostanzialmente, esattamente come Eichel. Prendete delle molle fondamentali che voi provate tutti i giorni. Io ve la dico così, cos'è che muove gli esseri umani? Ma applicate alla vostra vita immediata di che cosa avete paura e che cosa desiderate. Prendete paura e desiderio. Gli uomini fuggono immediatamente, gli esseri umani fuggono immediatamente ciò che fa paura e vanno incontro a ciò che desiderano, a ciò che ritengono bene, piacevole, utile per la vita. Ecco, se vi si chiedesse paura o desiderio, cosa rifugite e a cosa desiderate oggigiorno? Perché in fondo ritorno alle relazioni, penso alle prime due, avete visto gli operaisti, io ho letto in questo modo sempre il pensiero operaista senza identificarmi in esso, ha sottolineato un grande tema, il dominio del capitale sul lavoro, a partire dalla fabbrica, a partire dall'organizzazione del lavoro e gli operai giustamente si ripellavano a quel dominio, a quella forma di schiavitù moderna che è il lavoro nella fabbrica capitalistica. Quindi vedete una cosa terribile, il dominio autoritario del capitale sul lavoro che condiziona e giustamente gli operai si organizzano protestano, lottano e vogliono cambiare questo stato di cosa e l'operaismo ha colto bene questa, io l'ho sempre letto in questo modo e nello stesso tempo il desiderio della vita migliore, di portare sulla terra, riavviginare a noi un futuro, una vita migliore, magari sacrificandosi oggi ma per le generazioni future è però l'idea di una vita migliore che si avvicina, poi si può dare una coloritura teologica, però se oggi dovessimo dire cos'è che ci spaventa e che cos'è che desideriamo, io la domanda la pongo ora ai relatori come elemento di riflessione sull'attualità, però la domanda poi che pongo a tutti voi è la risposta che dovete darla voi, non la diamo noi professori, è una risposta che deve dare ciascuno di voi e forse dovremo dare collettivamente. Per quanto riguarda quello che diceva il professor Paolini io penso che magari emergevano solamente gli aspetti critici perché poi l'interpretazione di Levit è stata un'interpretazione critica, però io penso che questo sia un errore bypassarla solamente come una contrapposizione, mi sembra che alcuni in essi vengano colti e poi anzi queste tesi anche un pochino a livello più popolare e più di massa sono passate, quindi come dire probabilmente bisognerebbe anche rispondere a delle obiezioni che vengono per esempio da Levit per esempio c'è un tema ovviamente per la nostra formazione per la nostra formazione insomma appunto come dire cristiana insomma umanistica ma anche insomma di sinistra ovvio il problema dello sfruttamento io sento si fanno appunto si dice è il problema morale insomma però c'è stato anche Nietzsche che veniva citato da Luca in cui ha giudizio diametralmente opposto a quello di Marx quindi non so se poi la critica può essere solamente una critica morale penso insomma che poi bisogna si debba rientrare nel merito delle questioni per tentare insomma di recuperare quel che c'è di recuperabile oppure l'aspetto insomma come dire escatologico io credo poi mi ranno insomma i professori uno dei grandi motivi insomma della disillusione della delusione del marxismo storico insomma dell'Unione Sovietica è proprio il fatto che questo paradiso intero non lo aveva realizzato a meno che insomma non si fosse appunto stalinisti e staganoisti a meno che quello non fosse l'idea di paradiso che però non è il paradiso insomma del consumo come poi inizierà con la destalinizzazione perché Khrushchev mi pare che volesse fare questo poi in Unione Sovietica penso insomma che bisogna rispondere a queste questioni cioè insomma dire no il marxismo è una vita migliore però quello insomma è riformismo voglio dire c'era di più di questo però allora ecco insomma penso che bisogna confrontarsi con queste questioni e non bypassarle come una critica conservatrice oppure insomma alla Raimond Aron insomma no ecco non solamente polemica penso che almeno insomma io queste risposte insomma non le vedo francamente insomma ecco il marxismo è una filosofia superficiale sostanzialmente a livello filosofico non mi sembra questa grande filosofia questo è il problema c'è un deficit antropologico gravissimo e questo alla lunga lo si paga cioè quando il vento va nella tua direzione tu ti attrezzi e fai anche grandi cose ma non mi sembra che siano filosofie adeguate insomma ci sono molte cose tante cose di più nella vita degli individui nella vita di un popolo la vita la morte la malattia cioè queste cose o le metti tu in una teoria o le consegni ai preti questo è il problema che giustamente per fortuna esistono in molti casi e li gestiscono cioè se in molte zone non ci fosse la parrocchia saremmo finiti questa è la verità ora questo non è un dato empirico questo è un pezzo di teoria che uno dovrebbe io credo che questo problema rimane questo problema rimane e crea quelle cose che della sinistra in generale non piacciono che è una forma di arroganza di superbia di parlare da medici rispetto a pazienti c'è voglio dire molto dei nostri si pongono anche il problema non ci riescono non ci riescono a fare diversamente cioè perché questa ora se non si mette a soquadro questa struttura antropologica e questa concezione non è filosofica io secondo me non non si va da nessuna parte non si può riprendere il problema perché ciò che manca è questo sostanzialmente tutto il resto si può superare cade il muro di berlino ma so cazzate rispetto cioè è caduto il muro di berlino ma che è caduto cioè questo è il muro di berlino mette in discussione una concezione del mondo non può essere cioè ti falsifica alcune cose ti rallenta in alcune cose però qua c'è qualcosa è una malattia più grave ecco questo è poi il problema che ancora non si è nemmeno diagnosticata quando il mondo sta andando già a passi veloci in un'altra direzione insomma mi sembra che siamo completamente sfasati coi tempi rispetto a quello che ci vorrebbe però insomma io poi sono penso che sempre si può fare però bisognerebbe incominciare a fare in un'altra direzione bisognerebbe incominciare ognuno a procedere in un altro modo insomma cioè qual è l'altro modo secondo lei che quello che manca non è io ripeto cioè ci manca la teoria ci manca la politica ma quello che mancano sono gli uomini perché chi è diventato comunista non è che è diventato comunista a 18 anni che aveva letto il capitale o conosceva la scienza della logica nessuno no perché ha incontrato testimoni cioè il comunismo è come il cristianesimo cioè se tu chiedi agli uomini qualcosa di più lo devi rappresentare fisicamente cioè la gente le deve vedere questi testimoni sono come i santi nella chiesa se la chiesa non c'è i santi è in crisi come sappiamo no cioè i comunisti erano anche come i santi tante volte erano persone straordinarie facce straordinarie che io non vedo più ma perché non ci sono non lo so Luca non lo so non lo so questo io non ne vedo più di queste di queste facce vedo persone della gestione del proprio sé della propria vita e che lo fanno più o meno bene che non rubano in molti casi però sinceramente uno dovrebbe militare per questo no non si può fare ecco e non si fa